Buon pomeriggio e ben ritrovati in questo ultimo video di quest'oggi, non perdetevi i due video brevi su Sanremo, assolutamente non perdeteli. Allora, adesso parliamo dell'anteprima di NXT. Innanzitutto, il quesito principale della puntata è questa. Charlotte accetterà la sfida di Rhea Ripley per WrestleMania, poi avremo anche un face-to-face tra Bianca Belair e Rhea Ripley, che si affronterà a NXT Decover Portland tra due settimane circa. Senza dimenticare l'apparizione che farà questa notte la Futsal University Arena, il nuovo campione di NXT dei pesi leggeri Jordan Devlin. Poi bisogna verificare come prosegue questa faida, così, tra gli acerrimi rivali, l'handisput di Dira, Adam Cole, Tommaso Ciampa. Soprattutto, come inizieranno il loro percorso, da primi a Spidandi, a Landisput di Dira e Browser, with Pete Dunn e Matt Riddle. Bene, questo era l'anteprima di NXT per oggi, promesso. Non ci saranno più video, io mi riposerò, ci vediamo domani, ciao.